Buongiorno, siamo qui davanti alla chiesa di Solofra e dei ragazzi hanno posto uno stand qui davanti. Vogliamo chiedere alla ragazza il nome? Michela. A quale proposito avete posto questo stand qui dinanzi? Allora, noi siamo educatori di azione cattolica, in modo particolare noi del settore ACR, dei ragazzi, e ogni anno proponiamo come iniziativa annuale la festa del Ciao, che è un incontro di tutti i bambini delle scuole elementari e ragazzi delle scuole medie. Passeremo due giorni in compagnia qui a festa San Michele, tutti insieme. Ok, quindi ho notato che avete dei buoni propositi qui per i ragazzi. Adesso ci può fare un saluto agli amici di Campania Tube? Ciao, buona giornata!